Stai avendo problemi riguardo ai driver su Call of Duty Black Ops 6, ovviamente grazie anche a Nvidia, stiamo aggiornando i nuovi driver, quindi driver GeForce Game Ready sul programma Nvidia App che ti ho lasciato in descrizione, quindi basta che scarichi così e installi la versione beta, vai direttamente su driver, cerca l'aggiornamento che devi fare, gli ultimi driver lasciati il 22 di ottobre, scarichi e installi così i driver e poi provi ad avviare di nuovo Call of Duty. Quindi questo era riguardo all'errore della scheda video, basta che tu scarichi, installi così l'ultimo driver lasciato per la scheda grafica Nvidia e adesso poi proviamo ad avviare il gioco e vediamo se si avvia. Quindi una volta così scaricati tutti i driver per la scheda grafica Nvidia installati e poi riavviato il sistema, entriamo direttamente sul nostro client Steam o Battle.net oppure Xbox App e clicchiamo su gioca per vedere se il gioco si avvia senza nessun problema. Il gioco si sta avviando, già quando esce questa schermata possiamo anche smettere di preoccuparci ed eccolo qua che si sta avviando. Ed ecco qua che Call of Duty si è avviato. Per altri problemi ancora si sta anche connettendo ai server online. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!